bene siamo arrivati all'inserimento dell'album con l'artista quindi ho fatto qualche modifica al form html ho aggiunto nel form anche questo campo artista che è un drop down una lista drop down per il momento vuota ecco qui il campo del form per l'inserimento dell'artista quello che voglio ottenere è visualizzare appena viene caricata la pagina nel browser l'elenco di tutti gli artisti presenti sul database bene per fare questo allora andiamo all'interno della classe artist manager ad aggiungere un'operazione sul database questa operazione deve andare a recuperare tutti gli artisti e poi restituirli al chiamante cioè ad una servette che andremo a creare in realtà qua è già presente e si chiama get all artist servlet cosa fa questa operazione prima per prima cosa prepariamo una lista contenente istanze di artista implementandola quindi la dichiariamo come di tipo list interfaccia mentre andiamo creare la struttura concreta utilizzando un array list all'interno di questa lista verranno poi inseriti tutti gli artisti che vengono recuperati dal database poi il passaggio successivo è quello di andare a definire la query che recupera questi dati la stringa è select all from artista e poi già che ci siamo andiamo a fare un ordinamento in base all'id e al nome apriamo quindi la connessione al database e poi andiamo a fare la solita operazione di definizione di un oggetto di tipo prepared statement andiamo per compilare la query vi ricordo che la per compilazione significa che manderemo separatamente la query dai parametri dei dati in modo tale da evitare eventuali attacchi di sql injection dopodiché eseguiamo la query con execute query il risultato sarà restituito all'interno di un oggetto di tipo result set poi l'estrazione dei dati da questo result set avviene sempre con un ciclo while dove utilizzando questo next questo metodo next e ci spostiamo da una riga a quella successiva andando recuperare i dati che ci servono quindi quindi riga per ricoperiamo l'id il nome la data di nascita l'anno inizio l'anno fine andiamo a creare un'istanza di artista con i dati che sono stati prelevati dal database e aggiungiamo questa istanza di artista all'interno della lista artisti se la lista non è vuota allora in prepariamo l'oggetto operation result set con all'interno il messaggio get operation ok get operation ok è questa recupero date avvenuto con successo e poi alleghiamo aggiungiamo la lista di degli artisti all'interno di questo di questa istanza altrimenti se la lista è vuota restituiamo un altro oggetto per esce un result set con il messaggio che per esce un capo non ci sono dati disponibili vediamo ora la servlet che restituisce tutti gli artisti allora questa questa classe implementa solo il metodo do get poiché noi non dobbiamo passare in tal caso alcun dato al server quindi possiamo usare il metodo get del protocollo http questa classe definisce due variabili che conterranno res risultato proveniente dalla classe artista manager e poi un'istanza di artista manager per poter invocare i metodi che sono in essa definiti all'interno di un blocco try facciamo proprio la chiamata al metodo get all che abbiamo visto in precedenza catch invece oltre a stamparci su console l'eventuale stack degli errori della propagazione dell'errore definisce la variabile jdbc code alla quale viene assegnato il codice di errore poi ci facciamo restituire anche il messaggio di errore poi andiamo a associare a questo messaggio una stringa in italiano vado a fare una stampa di questo res per debug poi invio i dati al server naturalmente facendo però prima una trasformazione dell'oggetto java in una stringa json quindi con la libreria json di google creo un'istanza poi applico il metodo to json a res ottenendo così la stringa json res contenente il risultato ma in formato json stampo anche questa stringa sempre per controllare che tutto sia avvenuto correttamente e finalmente posso inviare i dati al client vediamo ora lato client come si può popolare quella lista drop down allora intanto l'evento che dobbiamo gestire il caricamento della pagina si può scrivere dollar window on punto on load l'evento e poi la solita callback function quando la pagina viene caricata andiamo a chiamare fare una chiamata al server per ottenere tutti gli artisti utilizzando quindi la servlet get all artist servlet e poi la callback function aspetta che il server restituisca i dati all'interno di questa variabile data quando i dati arrivano possiamo fare la conversione da stringa formato json a oggetto javascript utilizzando il metodo json.parse e a questo punto assegniamo il contenuto perché abbiamo un oggetto che ha un messaggio e anche un contenuto assegniamo il contenuto alla lista artisti corrente dove lista artisti corrente è una variabile che abbiamo definito a livello globale andiamo a prendere ciò che c'è dentro data object nel campo content cioè la lista di tutti gli artisti e andiamo ad assegnare questa variabile globale stampiamo poi il messaggio e anche la lista degli artisti il passo successivo è quello di andare ad aggiungere alla select del form il nome e l'id dell'artista quindi andiamo a rivedere come era fatto il form abbiamo questo campo artista questa questa select quindi dobbiamo andare ad aggiungere dei campi option contenenti i dati degli artisti su lista artisti corrente andiamo a fare una iterazione prendendo un elemento alla volta questo elemento viene collocato all'interno di item e poi andiamo ad appendere alla lista di artisti quindi questo id della nostra select andiamo ad appendere un elemento option il cui value è l'id dell'artista item.id e come invece etichetta diciamo di questa opzione abbiamo il nome dell'artista vi ricordo che se utilizzate visual studio code o comunque degli editor esterni e clips per visualizzare il codice poi occorre sempre andare a fare un refresh del progetto dopo le modifiche una piccola annotazione per evitare problemi perché mi stava dando alcuni errori strani il codice ho spostato gli script javascript nella sezione add all'inizio ecco il risultato ottenuto allora caricando la pagina avviando l'applicazione caricando la pagina insert album punto html ecco che otteniamo l'elenco degli artisti presenti sul database e qui potete vedere sulla console appunto i dati che vengono restituiti il prossimo passaggio è quello di gestire l'inserimento dell'album insieme all'artista vado inserire l'album purple rain allora dunque la data di uscita me lo sono andata a cercare e che mi conviene scriverlo qui è il 25 06 del 1984 numero di tracce 9 ecco l'artista è Prince ecco adesso quando faccio clic su invia che cos'è che deve accadere deve accadere che viene inserito all'interno del database qua all'interno del database nella tabella album deve essere inserito l'album con la data di uscita con il numero di tracce ma in più occorre andare ad aggiungere l'id dell'artista in questa foreign key l'id dell'artista è esattamente 5 nella form html il pulsante che serve per inserire l'album id insert album btn e allora nello script javascript andiamo a gestire l'evento clic su questo pulsante quando si fa clic su insert album btn andiamo naturalmente sempre a interrompere quella che è l'operazione il comportamento di default del pulsante submit poi recuperiamo i dati dal form quindi il nome dell'album data uscita eccetera eccetera inoltre recuperiamo anche l'id dell'artista che è stato selezionato e poi definiamo una variabile artista che conterrà poi tutta l'istanza di artista quella da passare al server che inizialmente quindi viene valorizzata nulla con un ciclo sempre su lista artisti corrente quella variabile globale che abbiamo visto prima andiamo a prendere un artista alle volte confrontiamo l'id dell'artista con item.id infine quando troviamo l'artista andiamo a creare l'oggetto artista con i campi che vedete l'unico attributo che è obbligatorio è il nome dell'album quindi se il nome dell'album non c'è visualizziamo un messaggio di errore devi inserire il nome dell'album altrimenti se il nome dell'album è presente andiamo ancora a vedere se l'artista è stato specificato o no chiediamo conferma che non si voglia inserire il nome dell'artista dopodichè prepariamo l'oggetto da inviare al server contenente il nome dell'album la data di uscita, il numero di tracce e l'artista convertito in una stringa json a questo punto possiamo inviare i dati al server con $.post e la servlet che si deve occupare che deve gestire questo inserimento e la servlet insert album servlet la callback rimane naturalmente in attesa di ricevere i dati in risposta dal server la servlet che si occupa di gestire l'inserimento dell'album recupera i dati dal form poi fa eventuali conversioni quindi più o meno sono sempre le stesse operazioni vediamone nel dettaglio allora recupera il nome dell'album recupera la data di uscita e poi la converte in una data a data SQL poi sempre che questa data di uscita non sia vuota recupera il numero di tracce se queste tracce se il numero di tracce non è stato inserito quindi se l'attributo è vuoto è una stringa vuota allora non fa la conversione altrimenti fa la conversione in integer recupera i dati dell'artista quindi va su artista converte l'artista in un oggetto di classe artista utilizzando from json quindi converte da formato json a formato oggetto java poi crea l'istanza dell'album e va a impostare con il metodo set artist l'artista per questo album dopodichè richiama diciamo crea un'istanza di album manager e richiama il metodo insert per poter inserire l'album e di nuovo nel cache c'è la gestione di tutti i messaggi relativi all'operazione che si è appena stata eseguita e quindi eventuali messaggi di errore infine questo res che è il risultato restituito viene convertito in json e inviato al client ora l'unica cosa da modificare è che quando viene inserita l'occorrenza di questo album nella tabella del database occorre andare a impostare anche la chiave esterna allora questa è la query per l'inserimento dell'album e andiamo a verificare se l'artista è presente tra i dati che sono stati inviati se è diverso da null allora si va a prendere l'id dell'artista e lo si va a aggiungere a impostare come chiave esterna quindi come parametro numero 4 altrimenti si imposta a null e quando si utilizza set null bisogna anche specificare che il tipo comunque di questo campo è un integer vediamo ora se tutto il procedimento funziona oppure no dunque eravamo rimasti qui voglio inserire questo album e vado a cliccare su invia e vediamo se tutto viene memorizzato registrato nel modo corretto allora sembrerebbe di sì ma andiamo a vedere sul database beh direi che ha funzionato naturalmente vi sarete resi conto che non ho fatto controlli sull'eventuale duplicazione del nome però insomma si può sempre migliorare si può migliorare tutto diciamo che lo scopo di questa serie di video lezioni era proprio mostrare come effettuare la registrazione di dati sul database anche in presenza di tabelle correlate tra loro oltretutto rimane ancora rimangono ancora da realizzare molte operazioni crude l'eliminazione l'update e anche la ricerca le ricerche di informazioni quindi potete sbizzarrirvi e andare a continuare questa esercitazione era stato creato anche il cliente il cliente che può andare a effettuare degli acquisti di album online però ripeto mi fermo qui perché insomma il discorso quasi prolunga e quindi lascio a voi la possibilità di continuare